Il Centro Chirurgico Toscano di Arezzo è l'unico ospedale privato della regione ad aver ricevuto l'autorizzazione ad istituire il reparto di rianimazione e terapia intensiva a servizio dell'attività chirurgica. Per i profani che cosa significa avere la terapia intensiva e rianimazione? Per i profani è rispondere di sì alla domanda che tutti fanno quando gli proponiamo di essere operati da noi. Ma ce l'avete la rianimazione? La risposta a questa mani è sì e quindi dare una sicurezza in più. Nessuno spera o prevede che un paziente possa andare in rianimazione dopo l'intervento chirurgico, però purtroppo succede e se succede è stote parati, cioè siamo pronti. Responsabile del reparto, la cui attività inizierà ad aprile, è la dottoressa Claudia Recine, con la quale collaborano 10 anestesisti ed un'equip di infermieri specializzati. I posti sono due perché due sono gli ambienti. Per l'accreditamento è necessario che ci sia un posto, che sia previsto un posto per eventuali, cioè chiamato isolamento, per eventuali patologie trasmissibili, infettive trasmissibili. Pensiamo di poter lavorare su un letto perché l'altra eventualità di averne due, insomma, un passo per volta. Ecco, questo qui ci consentirà intanto di rodarci e poi, insomma, se, come ha detto il dottor Tenti, la cosa potrà avere ulteriore sviluppo, vedremo. Sì, è un passo importantissimo. Un esempio, credo, da seguire è una struttura privata che investe in sicurezza, quindi è una cosa non immediatamente remunerativa, se non per il valore aggiunto, che questa porta alla chirurgia complessivamente. È un ottimo esempio. Si dà più sicurezza alle persone che vengono qui e questo ci inorgolisce di essere noi terreno ospitanti di questa struttura.